Buongiorno a tutti, allora, 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 call news ragazzi, call news 5, 5, ben 5 call news veloci, veloci, una paginetta un poco più di call news. La prima riguarda lui, lui, quello che ha fatto i due personaggi iconici, uno faceva sport e l'altro faceva la guerra. Allora, poi, torniamo a parlare di paleontologia, diciamo così, cose antiche, animali del passato, passato abbastanza prossimo, non remoto, però sempre passato. Poi c'è questo materiale particolare che hanno trovato, non voglio aggiungervi altro perché poi ne parliamo nella notizia. Poi hanno trovato questi batteri particolari che si nutrono di due alimenti molto particolari. E infine parleremo di lumacone, le lumacone, quelle belle grosse, quelle grosse, quelle grosse, 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 le lumache, i lumac, i berch, come li chiamano qua da noi, il berch. Comunque, iniziamo con Rocky, 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 Rocky Joe. No, non è Rocky Joe, ma è Rocky e basta. Sylvester Stallone su tutte le furie per il nuovo film su Drago. Winkler, patetico, lui e i suoi figli avvoltoi su schiasangue. Si prendono il mio personaggio senza dire nulla. Non accenna a placarsi la rabbia dell'attore star di Oliver nei confronti di Irwin Winkler, il produttore della saga cinematografica di Rocky. Io pensavo che fosse l'altro Winkler, quello che faceva Fonzi. Invece è Irwin Winkler. Ha lo stesso cognome, ma credo non c'entrino niente. Un altro colpo al cuore. Sylvester Stallone su tutte le furie. Non accenna a placarsi la rabbia dell'attore star di Oliver nei confronti di Irwin Winkler, il produttore della saga cinematografica di Rocky, come dicevo prima. Tutto è iniziato a metà luglio, più o meno, quando Stallone si è scagliato per la prima volta con Tom Winkler, definendo in un posto di social il produttore di Rocky e Creed, notevolmente privo di talento e parassita, addirittura parassita. Quindi il 17 luglio aveva rincarato la dose spiegando i motivi del suo rancore. 17 luglio 2022 è una cold news, ve lo ricordo. Vorrei davvero riavere almeno un po' di ciò che rimane dei miei diritti, prima che tu li ceda ai tuoi figli. Credo che sarebbe un gesto equo. Ne avevamo già parlato di questa richiesta di Rocky, Silvestre Stallone, di lasciargli qualcosina dei diritti di Rocky. Entrambi i post erano stati poi cancellati dall'attore, ma oggi, primo agosto del 2022, quindi dobbiamo andare indietro di un po' di tempo, dopo la notizia dell'arrivo del nuovo film Drago, spin-off sul personaggio del pugile sovietico di Rocky IV, è tornato all'attacco. Ho appena scoperto questo, ha scritto Silvestre Stallone su Instagram. Ancora una volta, questo patetico produttore 94enne e i suoi stupidamente inutili figli avvoltoi, Charles e David, si prendono ciò che rimane dalle ossa di un altro splendido personaggio che ho creato senza nemmeno dirmi nulla. Mi scuso con i fan, non ho mai voluto che i personaggi di Rocky venissero sfruttati da questi parassiti. In ogni caso non nutro altro che il rispetto per il mio grande amico Dolph Lundgren. E ancora, nel corso della storia, tanti artisti in ogni settore, registrazione, pittura, scrittura, sono stati distrutti da questi succhi a sangue che hanno distrutto tante famiglie, riempiendo le loro tasche con il lavoro degli altri. E con questo ha concluso l'arringona molto molto bella. Come dico io, no? È andato giù di mannaia contro questi personaggi. Prima gli aveva chiesto gentilmente se gli lasciava una piccola parte dei diritti su Rocky, eccetera. Poi, vedendo che questo non solo non risponde, ma che si mettono a fare pure lo spin-off di Drago, diciamo che non l'ha presa benissimo. Detto questo, ragasoli, mi stop un attimo e poi andiamo a parlare di paleontologia, che è libidine, libidine, tante belle notiziole da libidine. Dicevamo, paleontologia, perché? Cosa hanno trovato? Il ritrovamento di ossa di mammut e di altri animali trovati in un antico sito di macellazione nel New Messico dimostrano che gli esseri umani si stabilirono lì 37.000 anni fa. Quindi non stiamo parlando di un milione, due milioni, 65 milioni, 130 milioni di anni fa. 37.000 anni fa sono sempre tanti. Voi pensate solo in 2.000 anni cosa abbiamo fatto? Purtroppo allora i miglioramenti umani erano sempre minimi, 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 minimi. Poi siamo arrivati al 2.000 ed è successo di tutto e di più. Cioè dall'anno 0 all'anno 2.000 mamma mia che grandissima libidine dell'umanità, diciamo così. Comunque proseguiamo, stiamo sulla notizia perché questa è la notizia io ogni tanto divago. Un team di scienziati guidato dall'Università del Texas ad Austin ha estratto il collagene di alcune ossa rinvenute nel New Messico consentendo loro di datare il carbonio all'età stabilita tra 36.250 e 38.900 anni fa. Come vedete, come dico sempre, più si va indietro nel tempo, più l'adattazione al carbonio 14 ha sempre degli spazi. In questo caso c'è una differenza di circa 2.500 anni, ecco per intenderci. 36.250 avanti Cristo, 38.900 avanti Cristo, quindi 2.000. Stiamo a essere precisi, sono 2.550 anni, 5 per 2, 6, 650 anni, 6 più 2, 8 è 1, 9, 6.250, 2.200, 2.650 anni di agio per intenderci, di differenza, più o meno circa quasi. Però, se sono invece milioni di anni, dicono sono 150, 160 milioni di anni, quindi d'altronde la precisione non esiste in questi casi, vai a occhio, vai a spanne. Ma proseguiamo, perché le ossa sono state scoperte, che sono state scoperte, presentano segni di macellazione e fratture da impatto contusivo. La scoperta fa intendere che gli esseri umani arrivarono in Nord America molto prima di quanto si credesse, cioè circa 17.000 anni prima. Gli esseri umani si stabilirono in Nord America 17 anni prima di quanto si pensasse. Timothy Rove, autore principale dello studio, afferma che gli antichi umani probabilmente provenivano dall'Asia, ma perché poi si siano diretti verso l'America rimane una domanda aperta. La scoperta è stata fatta anche nel cortile di un'abitazione. Il proprietario ha notato una zanna sporgente dal terreno e ha rapidamente chiamato una squadra per aiutare con gli scavi. Una volta rimosta la maggior parte dello sporco, è stato rivelato il sito di macellazione all'aperto che comprende diverse aree separate da muri in ampietra e argilla. Prima del ritrovamento di queste ossa, le più antiche furono trovate in una sepoltura di 20.000 anni fa nel Montana dove c'era la una delle responsabili di Si Sai Las Vegas che l'avevano proprio soprannominata Montana perché arrivava da là che poi si è sposata con quell'altro che faceva invece il poliziotto. Vabbè, lasciamo perdere le questioni Si e Sai. È interessante. Vedete che piano piano si migliora sempre, no? Si pensava prima che era così e poi adesso ci sono i nuovi ritrovamenti allora eh no, allora non sono più sono meno. Se uno va a leggere i libri degli anni 70 sui dinosauri e legge quelli odierni ci sono delle novità ma ti cambia tutto, ti cambia cambiano anche gli anni le diverse ere eccetera eccetera proprio perché vengono scoperte sempre cose nuove cose nuove che spuntano fuori e quindi ogni giorno c'è una novità ma proseguiamo perché anche qua c'è una novità l'oggetto realizzato con materiali progettati per resistere a temperature estreme mostrava evidenti segni di ustioni provocate durante rientro nell'atmosfera Brett Tucker astrofisico dell'Australian National University ha pubblicato un video sul suo canale YouTube lo scorso 30 luglio che documenta la scoperta di alcuni detriti spaziali nelle Snowy Mountains nel nuovo Galles del sud in Australia Tucker ha ricevuto una telefonata da due allevatori di pecore nella piccola cittadina montuosa di Dalgeti che lo informavano del ritrovamento di uno strano oggetto carbonizzato nella loro fattoria poche settimane prima un razzo di Space X varato nel novembre 2020 era rientrato nell'atmosfera terrestre Tucker calcolò che i resti del velivolo potevano essere caduti in quella regione e decise di andare ad indagare di persona sull'oggetto lungo circa tre metri e parzialmente sepolto nel terreno sembra un albero bruciato dichiarò Tucker in un'intervista al The Guardian è quasi come un obelisco alieno e quindi questa fu l'affermazione quando lui vide l'oggetto che notò era realizzato con materiali progettati per resistere a temperature estreme sebbene mostrasse chiari segni di bruciatura durante il rientro nell'atmosfera secondo l'astrofisico potrebbero trattarsi dei resti del guscio depressurizzato della capsula una struttura necessaria per il lancio della navicella ma che si stacca dal razzo prima del rientro anche l'agenzia spaziale australiana è stata informata del ritrovamento e sta conducendo un'indagine l'agenzia sta lavorando attivamente per supportare l'identificazione formale degli oggetti e sta collaborando con le nostre controparti negli Stati Uniti e con le autorità locali ha affermato un portavoce dell'agenzia spaziale australiana ASA 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 A-S-A l'agenzia spaziale australiana quindi ha trovato probabilmente un pezzo di una navicella che è rientrata eccetera eccetera però pensate tre metri di diametro precipita in Australia fortunatamente su un terreno incolto dove non c'era nessuna pensate se è un pezzettino è vero che loro tendenzialmente quando rientrano cercano di farle sempre rientrare in mare aperto poi li vanno a recuperare vedi la navicella che galleggia e arrivano recuperano navicella e uomini dell'equipaggio e li portano se è una navicella se invece è lo space shuttle a terra a che canavera dove deve atterrare quindi teoricamente i rischi che possano finire in una città sono scarsi però pensate se su Roma su Milano ti arriva giù un oggetto di tre metri di diametro mezzo bruciacchiato in una via del centro ragazzi miei può fare fare una strage noi ridiamo e scherziamo però questo un oggetto di tre metri capisci a me vabbè fortunatamente è finito nel deserto lì nella campagna venga che c'è l'oggetto da proseguiamo proseguiamo perché hanno scoperto questi batteri particolari utilizzano sia il metano che lo zolfo come fonte di energia gli esperti hanno battezzato il nuovo ceppo di batteri metilo virgola teovoransi vi teovoransi uno teovoransi teovoransi uno che poi è teovorans h y uno vabbè per essere precisi scoperta davvero interessante quella compiuta da un team di esperti della chakmuk national university shambak dovrebbe essere perché la U di solito si pronuncia quindi dovrebbe essere shambak national university riportate in un articolo pubblicato dalla rivista proceedings of the national academy of sciences power sono infatti riusciti ad individuare un nuovo ceppo di batteri che hanno chiamato non ve lo ripeto il nome perché sennò impazzisco in grado di utilizzare zolfo e metano come fonte di energia digerendoli messo tra virgolette nei risultati del loro lavoro gli scienziati spiegano che i batteri che vivono in zone umide sono in grado di sfruttare sia il metano che lo zolfo per il nuovo metabolismo ma che la particolarità del nuovo cep è quella di riuscire ad alimentarsi con ambedue le sostanze a coordinare il lavoro del team è stato sung kyun re il lavoro ha previsto di analizzare le basi genetiche dell'abilità metabolica del tiovonrush tiovonrush 1 che come spiegato prospera grazie a metano alcoli acidi organici alcani a catena corta e composti inorganici dello zolfo il lavoro ha previsto sia analisi genomiche che transcrittomiche e proteomiche proteomiche gli autori dello studio nel ricordare che i batteri dopo aver consumato la sostanza tendono a rendirezzare il flusso di elettroni e carbonio lontano dagli organismi che producono metano hanno sottolineato che il nuovo ceppo scoperto potrebbe aiutare a comprendere meglio i cicli redos dello zolfo e del metano nelle zone uvide il più che questi batteri non siano pericolosi per l'uomo perché ci manca anche il battero del zolfo e del metano che viene a rompere i testi ci è bastato il covid e direi che abbiamo già fatto il pieno ultima notizia ragazzoli perché parliamo di lumache i francesi magari saranno contenti si saranno leccando i baffi perché a loro le lumache piacciono molto ricordo il film vacanza di natale in cui c'era il grande Alberto Sordi che faceva il cameriere e c'era il commenda diciamo così e la sua figlia che però lui non voleva far sapere che era la figlia che si sono sfidati a chi mangiava più lumache poi sono stati malissimo e quindi ha dovuto preparargli la bomba vabbè lasciamo perdere parliamo di queste lumache perché l'estate scorsa agosto la florida è stata alle prese con una nuova invasione di lumache giganti africane che divorano di tutto persino i muri delle case e sono portatrici di un pericoloso parassita la florida invasa nuovamente messo tra un parentesi da lumache gigante 20 centimetri di lunghezza e fino a mezzo chilogrammo di peso è la lumaca gigante africana detta lissacciatina fulica fulica ci risiamo per te nella terza volta negli ultimi 50 anni la florida è alle prese con un'invasione di lumache giganti africane nonostante l'aspetto simpatico perché le lumache sono simpatiche questo gasteropode gasteropode è considerato una delle specie più invasive e distruttive dell'intero pianeta può raggiungere i 20 centimetri di lunghezza nel corso della sua vita depone migliaia di uova e si ciba praticamente di tutto dalle piante secondo il servizio forestale americano sono oltre 500 le specie vegetali che entrano nel suo menu quindi è di bocca buona per intenderci alla gomma degli pneumatici fino al cemento e al calcestruzzo dai quali ricava il calcio necessario all'accrescimento del guscio non toccatela assolutamente ma la lumacona è anche pericolosa è infatti portatrice del parassita polmonare del ratto angiostrongilus cantonensis cantonensis angiostrongilus cantonensis che nell'uomo può scatenare la meningite e sti cazzi diciamolo perché minchia la meningite c'è poco da scherzare per questo le autorità sanitarie raccomandano di non toccarle se non l'indossando dei guanti e possibilmente dei guanti belli spessi senza buchi perché se no se passa la tossina poi va nel e poi sono uccelli per diabetici e così mentre alcune contede della florida sono state messe in quarantena il center for disease control sta cercando di salicare per la terza volta dal 1975 questo animale dal territorio e ci vorrebbe un qualche animale che adora questo tipo di lumaca e se la mangi il guai è che poi se metti dentro un animale che a sua volta può essere pericoloso per l'uomo invasivo anche lui e siamo da capo perché per eliminare un problema ne crei un altro perché sai ci sono degli insetti come le cucinelle dicono che si mangiano i batteri delle piante da frutta no e le cucinelle non danno alcun fastidio però le lumache non so che animale può ma di solito gli uccelli si mangiano le lumache il problema è che ci sono dei parassiti che praticamente entrano mettono il seme nella lumaca no questo seme cresce questo vermetto è un verme qualcosa di simile va nel cervello della lumaca lo fa impazzire infatti vedi che ci sono la lumaca vedi dentro nelle due cornine della lumaca vedi dentro dei filamenti che sembrano emettere luce o qualcosa di simile sono bianchi vedi questa lumachina che di solito di giorno se ne sta nascosta perché se no vedono gli uccelli e se la mangiano che invece di giorno proprio questo ospite la fa uscire perché l'animale mangia la lumaca mangiando la lumaca si mangia anche l'ospite l'ospite ne approfitta va nell'intestino viene estratto dall'uccellino e quindi poi si riproduce un'altra volta perché spunta fuori dalla cacchina e va ancora infettare la lumaca per un ciclo continuo vabbè lasciamo perdere queste cose qui era una un ricordo di uno dei tanti documentari che ho visto sempre discovery eccetera eccetera tra l'altro ieri mattina perché posso dire ieri mattina ho fatto degli orari improponibili perché c'era la storia del west su sky art e mi sono intrippato e quindi ho iniziato da fine della guerra di secessione era appena finita la guerra di secessione guerra indiana la pace indiana poi trovano nelle black kids come cavolo si chiamano l'oro però quella parte lì gliel'avevano data ai nativi dakota su eccetera eccetera allora mandano mi sono intrippato da quel momento lì poi c'era jesse james white hope billy the kid è il racconto per cui lui è diventato quello che è diventato ma era solo l'inizio e quindi ho fatto le 10 del mattino sono andato a dormire alle 10 del mattino e alle 4 mi sono alzato un orario improponibile e quindi non vi ho fatto né video né niente ve li faccio adesso così al mattino alla domenica avete di tutto di più non vi faccio il video sull'inter perché tanto ho fatto i due video dei pretini mentre invece nella serata di domenica vi farò sicuramente il post partita del derby e poi dopo mercoledì perché il campionato nostro finirà mercoledì sera con l'ultima partita salernitana juve quindi mercoledì o martedì mercoledì mattina avrete reso conto serie A e invece per quanto riguarda gli altri campionati ve li faccio tra lunedì e martedì quando terminano appunto perché alcuni terminano domenica altri lunedì detto questo mi sono dilungato troppo chiedo venia vi saluto spero che queste belle cinque notiziole di tutto di più vi siano piaciute vi abbiano interessato almeno una e ci vediamo magari no senza magari ci vediamo alla prossima ciao a us a us a us a us a us